Ciao, sono Simona Vignali, direttrice insegnante della scuola SEMA. Su questo modulo di base di massaggio ayurvedico di primo livello a Milano voglio dirti tre cose. La prima cosa è che è un percorso breve ma intenso, perché è ricco di informazioni e contenuti e insegna una bellissima tecnica esclusiva di massaggio ayurvedico. Sono in realtà più di 15 anni che insegno il massaggio ayurvedico e nel tempo ho affinato il metodo, per cui in un solo weekend potrai imparare veramente bene questo massaggio completo di tutto il corpo. La seconda cosa che voglio dirti è che il corso si svolge in un ambiente piacevole, rilassante, molto tranquillo, perché per imparare bene il massaggio dobbiamo prima di tutto stare bene noi, trascorrere due giorni stupendi, lontani dalla fretta e dallo stress. Quindi faremo e riceveremo questo massaggio che è molto particolare, perché è sempre gradito a chi lo riceve e anche rilassante e riequilibrante per chi lo pratica e male non fa. La terza cosa è che lo stile con cui divulgo l'ayurveda nei corsi di massaggio è moderno e vicino alle nostre esigenze di occidentali, con molte risposte pratiche alla quotidiana sete di benessere. È un po' lo stile con cui ho scritto il manuale moderno di ayurveda delle edizioni RED che forse ti è anche capitato di leggere. Quindi i partecipanti sono felici ad ogni corso perché tornano a casa con diverse risposte alle loro domande più profonde e con una nuova arte nelle mani per donare benessere a loro stessi e agli altri. Bene, ora chiedimi pure informazioni se vuoi e io ti risponderò personalmente. A presto!